Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa del mattino che come sempre si apre con il santo del giorno vediamo il santo di oggi, poi le previsioni del tempo, i giornali oggi è San Paolo della Croce San Paolo della Croce è nato a Dovada in Piemonte da nobile famiglia oriunda di Castellazzo presso Alessandria ed è morto il 18 ottobre del 1775 il sole è sorto alle 7.27 e tramonterà alle 18.19 minuti vediamo il tempo previsto per la giornata di oggi, giovedì 19, dalla protezione civile della regione Marche il cielo oggi sarà sereno o poco nuvoloso con nuvole basse al mattino in dissolvimento durante la giornata attenzione che le nebbie, le foschie ci sono nei fondi valle anche a partire proprio dalla costa qualche nebbiolina che arriva dal mare non manca perlomeno qua nella zona di Fano, poi non so nel resto della regione infatti anche la protezione civile indica fenomeni particolari ovvero foschie e banchi di nebbia in serata più densi lungo la fascia costiera centro-settentrionale poi per domani, venerdì, avremo nelle prime ore della mattinata nuvoloso lungo la fascia costiera poi sempre al centro e al settentrione che si dissolveranno durante il corso della giornata le temperature sono senza variazione di rilievo per sabato tempo ancora bello, cielo sereno o poco nuvoloso il probabile peggioramento arriverà nel tardo pomeriggio di domenica e soprattutto per la giornata di lunedì con poi successivo miglioramento la visita lampo di Matteo Renzi, il segretario nazionale del Partito Democratico occupa le prime pagine dei quotidiani, le pagine chiaramente di Fano ma le edizioni di Peso Urbino invece si occupano di altro anche se c'è la fotonotizia per esempio sul Corriere Adriatico ecco la quale andiamo a vedere Renzi conquistato da storia e tecnologia il segretario scopre la Fano dell'innovazione ricorda la promessa fatta alla Padalino di venire a visitare una scuola come premier ma i migranti, i migranti sono in primo piano sul Corriere di questa mattina 3 su 10 lavorano, il piano si allarga a 15 comuni il contraltare, no al riconoscimento di protezione internazionale boom di ricorsi impossibili poi c'è la questione dei mutui e delle rate i marchigiani così tornano a spendere tutto torna, il presidente nazionale di Confindustria l'aveva detto siamo in una fase positiva del paese dobbiamo uscire da una dimensione di ansietà a Portonovo sabato scorso Boccia aveva restituito il sorriso a molti con un semplice possiamo farcela ma speriamo se lo dicono loro poi il Modena sciopera e parliamo di calcio però con un risvolto fuori dal rettangolo di gioco perché il Modena sciopera la partita del Fano rischia dunque di saltare il resto del Carlino edizione di Pesaro Urbino invece in primo piano torna alla questione dei furti nelle notti scorse a Villa Fastigi hanno i carabinieri arrestato i due cugini albanesi ricorderete che avevano messo a soccuadro parecchi appartamenti negli ultimi mesi il Carlino è andato a intervistare un po' i residenti addio all'isola felice dicono loro a Villa Fastigi cresce la paura tra i cittadini troppi furti, i due albanesi arrestati avevano preso di mira il quartiere polveri, la questione dell'inquinamento ambientale polveri sottili già 25 gli sforamenti il comune di Pesaro si affida alle biciclette si parla dunque di smog inizia l'autunno caldo dalle centraline purtroppo arrivano brutti segnali un parco mezzi sempre più vecchio e condizioni meteo molto sfavorevoli rari controlli dei vigili sulla zona blu l'assessore dice i limiti saranno sono più stringenti e poi va in pensione Mr. Imps aspettate vi faccio vedere ecco Mr. Imps gli utenti erano secondo la filosofia di questa persona che sta appunto che ha lasciato il lavoro dunque va in pensione gli utenti erano persone non solo delle pratiche a Orciano invece vedremo tra un istante l'allarme di un allevatore che dice i lupi sono arrivati a 200 metri dalla scuola e poi la guerra tra il prefetto e i residenti di due quartieri pesaresi che ospitano i migranti i migranti sono diminuiti a borgo sono fatti non chiacchiere sottratta circolare nemmeno in Calabria Fano la pagina del Corriere Adriatico Renzi catturato dalle tecnologie raddoppieremo i ricercatori dice il segretario nazionale del Partito Democratico tra archeologia e università e Renzi scopre la Fano dell'innovazione mentre nel rilancio dell'antichità sono stati sollecitati 5 milioni di finanziamento per il teatro romano scrive il Corriere Adriatico che Renzi dialoga con il sindaco di Fano Massimo Seri socialista Renzi lo chiama per nome lo invita a riguardare scusate a riguadagnare le prime posizioni del mini corteo e ne rimarca poi l'impegno Seri ricambia l'attenzione dice la sua presenza qui significa che Fano ha riconquistato importanza verrebbe da dire oppure che quelli del PD lo hanno voluto qua per rafforzare il partito e magari farti le scarpe alla prossima amministrativa ma questi sono punti di vista Baldelli lo accusa invece siamo a Fratelli d'Italia Baldelli lo accusa per i trasporti ferroviari carenti e la sanità ai privati è Fratelli d'Italia contro la politica dei centri commerciali anche il resto del Carlino pubblica una pagina intera sulla visita di Matteo Renzi toccate fuga si è parlato di teatro e di start up poi le fotografie l'arrivo alla stazione il giorno precedente rispetto a quello che era stato indicato nel programma e poi sotto il commento un fruscio poi nulla un'occasione persa sicuramente sì il passaggio di Matteo Renzi a Fano con il suo treno è stato come il fruscio dei corridori al giro d'Italia una sfracciare silenzioso nel giro di pochi attimi considerato che il suo passaggio a Fano coincideva con il giorno di mercato in centro forse qualche decina di metri in più a piedi poteva essere un'occasione da sfruttare solo una fugace apparizione circondato dai soliti noti personaggi locali mentre migliaia di fanesi proseguivano nelle proprie faccende quotidiane come se Matteo Renzi a Fano non fosse mai passato i lupi a 200 metri dalla scuola media tre ovini sbranati divorati dai lupi e non più di 200 metri da una scuola è successo a Orciano in via Monte Palazzino la stessa in cui è sede l'istituto comprensivo Gio Pomodoro con tutte le classi della secondaria di primo grado Edo Pompili che è questo signore che vedete in questa fotografia io non allevo dice lui di professione ma penso a chi lo fa e ai danni che subisce ogni volta e poi c'è la cronaca da Pergola indaga l'arma dei carabinieri su un morto un uomo trovato un pensionato di 57 anni trovato morto in casa non lo vedevano da qualche giorno ieri in tarda serata lo hanno cercato è un muratore a cui aveva dato appuntamento per parlare di lavori da sbrigare proprio nella giornata di oggi e poi in località Sterleto hanno trovato all'interno di questa casa il corpo di questo pensionato di 57 anni residente a Forlì che però ogni tanto veniva nel comune di Pergola parliamo adesso invece del Pincio il Pincio che subirà un restyling soprattutto sulla red urbana già la giunta di Fano scommette su questa bellissima area della città nuove luci e soprattutto alt al degrado un progetto per valorizzarlo e il progetto del Pincio è una prima risposta che l'amministrazione dà ai commercianti del centro storico che sono in questi giorni molto preoccupati soprattutto dal progressivo spopolamento del centro storico e degli effetti che potranno derivare dall'inaugurazione del nuovo Fano Center e poi la bella notizia che pubblica in un piccolo riquadro questa mattina il Carlino a pagina di Fano riguarda il bambino di 11 anni di Centinerola ricorderete che si era amputato tranciato un dito in un piccolo incidente con la bicicletta mentre giocava al parco lo scorso d'ottobre bene il dito è stato recuperato grazie ai medici tutto è andato bene e adesso tutti sono fiduciosi in una completa ripresa della funzionalità della mano salviamo padre Serafino da non deve partire è l'appello dei dei fedeli che oggi alle 16 si ritroveranno alla Madonna delle Grazie per pregare per lui e per evitare che domani parta alcuni fedeli della Chiesa dei Servi di Maria chiedono che il sacerdote padre Serafino non venga trasferito in una struttura di Vicenza a causa dei suoi problemi di salute ma che possa restare in convento a Pesaro per continuare ad assistere i tanti fedeli che lo cercano Urbino la cronaca anzi la pagina del Corriere per la bonifica delle Cesane questo bosco meraviglioso alle porte di Urbino sono in arrivo 300 mila euro c'è stato ricorderete diversi mesi fa durante l'estate uno spaventoso incidente che ha bruciato 30 ettari di bosco urbinate sono finanziamenti che serviranno per la rimozione del legno che è andato bruciato poi sempre da Urbino ma questa volta la pagina del resto del Carlino si è chiusa l'inchiesta sul decesso di Alexander e Anna Maria che vedete nella fotografia qua sotto la caldaia del vicino ha ucciso la coppia avevano 50 e 47 anni abitavano ad Urbino in un appartamentino di via delle Stallacce 9 nel centro storico e un anno fa l'11-17 ottobre vennero trovati morti nella loro camera da letto e la loro morte fu causata dal monossido di carbonio fuoriuscito dalla caldaia del vicino il fumo in odore prodotto dall'impianto termico è passato attraverso i muri la priorità le fessure chiaramente c'erano delle fessure delle crepe nei muri la priorità invece siamo e di nuovo tornati sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico c'è questo sottopasso un'immagine tipica del sottopasso del Lido allagato che diventa a questo punto una priorità del prossimo anno quella di ridurre al minimo questi allagamenti l'assessore Fanesi promette l'impegno per risolvere ormai un problema cronico svaliggiano il guardaroba che è un negozio un negozio di vestiti e sfondano pure una parete il colpo nella notte in Viarco d'Augusto rubati capi di abbigliamento ma capi di abbigliamento soltanto costosi l'allarme è scattato intorno alle 5 e un quarto del mattino dalla valle del Cesano Pergola un farmacista trovato morto nell'abitazione dopo 8 giorni macabra scoperta a mezzanotte di Pergola Artigiano l'ha visto controllando gli infissi la tragedia si è materializzata nel tardo pomeriggio di ieri quando il pensiero del vicino di casa si è rivelato un presagio di morto un farmacista di 57 anni che da Forlì si era trasferito a Pergola è stato trovato morto in casa secondo una prima valutazione sarebbe deceduto da 8 giorni appunto nella sua abitazione nella frizione di mezzanotte gioco d'azzardo patologico drammi covati nel silenzio a Mondolfo si parla e si discute di come si manifesta la dipendenza dal gioco d'azzardo l'ossessione per scommesse online grattevinci e slot machine può arrivare a un punto di non ritorno con gravi ripercussioni sociali ed economiche per i malati e per le famiglie gli esperti si confrontano stasera a Mondolfo alle 21 al Salone Aurora di Via Cavour in un convegno organizzato dall'Avuls da Senigallia alluvione un vuoto di quasi due ore ma sui ritardi il comune non ha colpe i rilievi della perizia tecnica commissionata dalla procura però all'allerta via sms non è corretta consegna un borsello alla polizia e rischia un commerciante rischia linciaggio un gruppetto di giovani pensava avesse chiamato gli agenti la denuncia piazza 4 agosto ormai è un far west e l'ultima pagina è quella del resto del carlino di Fano e che riguarda un film un film in dialetto fanese girato in digitale dal sapore anni 50 si intitola La famiglia Ordonselli e il titolo è La famiglia Ordonselli siamo noi una commedia in dialetto fanese realizzata in maniera artigianale girata prodotta diretta pensata dal fotografo fanese Paolo Delbianco e che questo film sarà in proiezione al cinema Politeama il 26 e 29 ottobre e al Malatesta il 30 sempre con inizio alle ore 21 questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera c'è il telegiornale alle 20 e 30 occhio alla notizia buona giornata a tutti l'ultimo l'ultimo che vi ricordo Grazie.